3 motivi per cui Gianni Sant'Etoca un un po' andrà all'Aurora Basketiesi. Con che lettera inizia il cognome di Giannis? Con la lettera A quale altro nome inizia con la lettera A? Il nome Aurora e per cosa sta il nome Aurora? Sta per Aurora Basketiesi su quale costa italiana si trova Ancona, paese dove risiede l'Aurora Basketiesi? Sulla costa est? Quale altra squadra si trova sulla costa est in America? I Milwaukee Bucks chi gioca nei Milwaukee Bucks? Gianni Sant'Etoca un un po' in che Lega ha militato l'Aurora Basketiesi? Nella Lega A2 italiana dove milita la squadra di basket chiamata Filatlitikos? Nella Lega A2 greca dove ha giocato Gianni Sant'Etoca un un po' prima di approdare in NBA? A Filatlitikos.